Uomini e donne, le anticipazioni. Ida Platano abbandona, senza salutare, l'addio al veleno di Ernesto Russo e la scelta di Daniele. Ormai è ufficiale l'abbandono di Ida Platano da uomini e donne. È stato confermato nella registrazione il fatto che l'unica poltrona rimasta in studio al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti è quella di Daniele Paudice. Non sono mancati altri colpi di scena e ci ha pensato il solito esperto di gossip a rendere pubbliche le anticipazioni di questa puntata. Scopriamole insieme nel dettaglio. Ernesto Russo ha deciso di andarsene una volta per tutte da uomini e donne durante la registrazione della nuova puntata del Trono Over e la motivazione è piuttosto allarmante. È stato infranto il regolamento? In studio c'è stata una pioggia di segnalazioni sconvolgenti sul cavaliere ed ex corteggiatore di Ida Platano. Ma andiamo nei dettagli delle anticipazioni per vedere cosa è successo durante le riprese. Ernesto Russo avrebbe frequentato diverse donne esterne al programma durante la sua partecipazione nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne. Le anteprime della registrazione rivelano infatti che sono giunte diverse segnalazioni sul suo conto e che proprio dopo essere stato confrontato sulla questione il cavaliere ha deciso di abbandonare la trasmissione. Daniele dovrà per forza scegliere entro il 6 maggio quando ci sarà l'ultima registrazione dell'attuale stagione di Uomini e Donne. Poi la trasmissione finirà in vista dell'arrivo dell'estate. Un blogger ha infatti scritto su Instagram lunedì prossimo ultima registrazione di questa edizione perciò lunedì si registrerà anche la scelta di Daniele. Daniele dovrà prendere una decisione definitiva e scegliere quindi chi diventerà la sua fidanzata tra Gaia e Marika che sono in lotta tra di loro per riuscire a conquistare il cuore del tronista.